Ben ritrovati cari amici di Mosaico, la rassegna stampa internazionale di Visione TV. Oggi è 2 gennaio 2023, buon inizio d'anno, questo è il nostro sommario. RTBF, Brasilia, si insedia il presidente Lula, governare un paese diviso, ridurre la povertà, porre fine alla deforestazione dell'Amazzonia, queste le sfide principali enunciate dal neopresidente. Alla cerimonia di insediamento non ha partecipato Jair Bolsonaro. The Gateway Pandit, Bolsonaro vola in Florida, l'ex presidente rischia l'arresto per le sue affermazioni sui vaccini Covid. Financial Times, la recessione colpirà un terzo dell'economia globale, le previsioni del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. The Times, gli investimenti della Cina nelle società inglesi, un miliardo di sterline di dividendi di società inglesi finisce nelle tasche di Pechino. New York Times, guerra fredda tecnologica con la Cina, le aziende statunitensi hanno promesso quasi 200 miliardi di dollari per progetti di produzione di microchip dall'inizio del 2020. Ben ritrovati cari amici di Mosaico, come abbiamo ascoltato nel sommario d'apertura, iniziamo questa rassegna stampa parlando di quanto accade in Brasile. Si è svolta domenica la cerimonia di insediamento del neopresidente Luis Ignazio Lula. Andiamo a leggere questa notizia su un sito internet di una radio in lingua francese belga che ci dà degli scenari abbastanza interessanti di questa vicenda. Intitola Brasile e gli ardi progetti di Lula, tornato al patere dopo la presidenza di Jair Bolsonaro. In Brasile il protocollo prevede durante un cambio della presidenza che il presidente oscente si tolga la sciarpa presidenziale verde e gialla e la passi al suo successore sotto gli occhi della folla. Domenica però non c'è stato questo scambio di sciarpe perché il presidente oscente Jair Bolsonaro non ha partecipato alla cerimonia di insediamento ed è volato in Florida. che dallo scorso ottobre, dalle elezioni di ottobre, non ha rilasciato più parole, non ha più rilasciato dichiarazioni e nel giorno appunto della transizione democratica è rimasto assente. Chiaramente poi l'articolo dice, come abbiamo già annunciato nel sommario, quali sono le sfide che avrà il presidente Bolsonaro. La prima è chiaramente quella di governare una società divisa. Il Brasile è veramente spaccato in due perché proprio il partito dei lavoratori di Lula, il primo gennaio, si è aggiudicato la vittoria per poco, cioè ha vinto con il 50,9% dei voti, sono andati a Lula, mentre il 49,1% è andato a Bolsonaro. Poi le altre sfide che attendono il presidente è quella di ridurre la povertà. Nel 2014 il 24% dei brasiliani viveva al di sotto della soglia di povertà, oggi secondo le stime sono circa il 30%, cioè le disuguaglianze si sono ampliate. Ancora poi c'è, secondo il quotidiano, quello di ripristinare un'immagine del Brasile all'estero. Ovviamente questa è una testata stampa, una testata giornalistica che patteggia maggiormente per Lula, ma è sempre bene anche leggere ciò che dicono gli altri. E andiamo a capire quindi che cosa dice questa radio di lingua francese belga. Dice che le politiche del presidente uscente Jair Bolsonaro hanno portato a un isolamento del paese sulla scena internazionale. Lula invece nella cerimonia di insediamento ha dichiarato di voler rimettere in sesto il partenariato commerciale concluso con il MERCOSUR, cioè questo accordo commerciale tra Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay e l'Unione Europea. Lula ha anche detto che dovrà ritornare maggiormente sull'attenzione, il Brasile dovrà essere maggiormente attento anche ai cosiddetti temi climatici, cioè quello della carbon neutrality e la riduzione del 50% dei suoi gas serra entro il 2050 in allinea con gli accordi di Parigi, che invece Bolsonaro aveva quasi boicottato. Chiaramente c'è da parte degli enti sovranazionali sempre questa stessa linea di ritenere che la colpa sia unicamente dei gas serra. Sappiamo che eminenti scienziati in tutto il mondo non ritengono che sia così, che l'anidride carbonica non c'entri nulla, che i cambiamenti climatici vadano affrontati in modo ben diverso riducendo l'inquinamento. Noi di Visione TV abbiamo fatto anche un'intervista allo scienziato Franco Prodi che ha affrontato questo tema purtroppo inascoltato. Un'altra delle sfide che attendono il Presidente è quella di frenare la deforestazione in Amazzonia. In quattro anni di mandato di Jair Bolsonaro quasi 40.000 km2 di foresta amazzonica sono scomparsi a favore di aree per l'agricoltura intensiva, compresa la coltivazione della soia per l'allevamento più o meno quanto il territorio della Svizzera. Lula invece ha promesso un cambio di passo in tal senso. E come abbiamo detto già nel sommario ha fatto scalpore quindi l'assenza di Lula che è volato in Florida secondo il quotidiano The Gateway Pandit che è stata giornalistica vicina al Presidente Donald Trump i socialisti, cioè la parte politica vicina a Lula intendono arrestare il Presidente brasiliano cioè Bolsonaro, l'ex Presidente per aver avvertito sui rischi del vaccino Covid-19. Leggiamo che cosa ci dice The Gateway Pandit la Polizia federale brasiliana sta indagando sulle azioni di Bolsonaro sulle esternazioni di Bolsonaro in merito alla preoccupazione circa ai vaccini Covid-19 secondo la Polizia il suo discorso conteneva fake news e costituiva estremi di reato. L'ex Presidente ormai Jair Bolsonaro avrebbe commesso il reato previsto dall'articolo 41 della Regge sui reati minori cioè quello di diffondere discorsi allarmanti su un pericolo irreale. Bolsonaro infatti più volte ha detto che questi vaccini anti... si è schierato contro i vaccini anti-Covid che potrebbero a suo dire sviluppare la sindrome da immunodeficienza acquisita l'HIV-AIDS e in particolar modo questa esternazione è oggetto di indagini da parte della Polizia brasiliana The Gateway Pandit arriva a dire che per questo motivo il Presidente, l'ex Presidente Bolsonaro potrebbe essere addirittura incriminato e per questo motivo sarebbe proprio volato nello Stato della Florida. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi di questa vicenda. Ci dice The Gateway Pandit che l'inchiesta è curata da un giudice brasiliano Alexander de Moraes ha fissato un termine di 15 giorni per la convocazione di Bolsonaro e il Presidente presidente, ormai ex presidente è atteso chiaramente su questa inchiesta ma ieri come abbiamo detto cioè quando c'è stata la cerimonia di insediamento non ha partecipato e ha lasciato il parese diretto a Orlando in Florida. Staremo a vedere che sviluppi avrà questa vicenda. Passiamo adesso ad un articolo pubblicato dal Financial Times il capo del Financial Times il direttore generale Cristalina Georgieva ha affermato che i prossimi due mesi saranno particolarmente duri per la Cina a causa della diffusione del Covid ecco, insomma, avrà anche doti divinatori questo dirigente, alto dirigente del Fondo Monetario Internazionale il Financial Times titola che quest'anno la recessione colpirà un terzo delle economie del mondo leggiamo qualche passaggio dell'articolo un terzo dell'economia globale sarà colpito dalla recessione quest'anno lo ha dichiarato il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale avvertendo che il mondo dovrà affrontare un anno più difficile nel 2023 rispetto ai 12 mesi precedenti gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la Cina stanno rallentando tutti contemporaneamente ha affermato Cristalina Georgieva cioè il dirigente del Fondo Monetario Internazionale prevediamo che un terzo dell'economia mondiale sarà in recessione la dichiarazione è stata fatta alla rete televisiva statunitense la CBS in un'intervista andata in onda domenica scorsa metà dell'Unione Europea quindi la previsione riguarda anche noi sarà in recessione quest'anno sappiamo poi che la crisi è particolarmente grave soprattutto in Regno Unito ma è evidente anche in Italia il Fondo Monetario Internazionale in ottobre ha tagliato le prospettive di crescita dell'economia globale per il 2023 la causa di questo sarebbe il prolungamento della guerra in Ucraina le pressioni inflazionistiche e gli aumenti dei tassi di interesse da parte delle principali banche centrali e stavo parlando proprio della Regno Unito dell'Inghilterra la crisi è particolarmente grave proprio lì e voglio leggervi un articolo del The Times proseguendo nella nostra lettura degli articoli presi da siti internet internazionali questo articolo mi ha particolarmente interessato perché ci dice e ci fa capire qual è poi il potere anche della Cina che la Cina investe tantissimo in società inglesi ne sta acquisendo e ne ha acquisite moltissime negli ultimi anni e ben un miliardo di sterline di dividendi di società inglesi finisce nelle mani di Pechino leggiamo proprio qualche passaggio di questo articolo che ci dice appunto che negli ultimi anni società di Stato di Xi Jinping hanno acquisito partecipazioni in molte aziende britanniche gli esperti temono per questo motivo che vi sia un crescente controllo economico di Pechino sulla Gran Bretagna l'articolo inizia raccontando la storia proprio di questi magazzini LogiCore cioè un gruppo immobiliare di basso profilo ma che possiede e gestisce 170 centri di distribuzione nel Regno Unito per Amazon, Marks & Spencer Pretty Little Things, DHL e numerose altre aziende note dopo l'ondata di consegne natalizie è eseguita una corsa ai resi ma LogiCore ci dice appunto il The Times si occupa anche di un altro tipo di restituzione non soltanto quindi la restituzione dei resi insomma agli acquirenti ma anche alle società di Stato cinesi perché LogiCore dà centinaia di milioni di sterline proprio allo Stato cinese negli ultimi cinque anni è stata posseduta al 60% dalla China Investment Corporation la CIC il fondo sovrano di Pechino di conseguenza ogni volta che paga un dividendo agli investitori decine di milioni di sterline affluiscono al regime autoritario di Xi Jinping che possiede interamente la China Investment Corporation LogiCore è una delle numerose grandi aziende britanniche che hanno versato complessivamente più di un miliardo di sterline al fondo sovrano della Cina negli ultimi cinque anni secondo un'analisi del Sunday Times oggi più di cento grandi aziende britanniche tra cui appunto la LogiCore hanno lo Stato cinese come principale azionista e nel 2021 proseguiamo leggendo qualche altro passaggio di questo articolo nel 2021 il Sunday Times ha stilato la cosiddetta China List cioè un'analisi dettagliata di oltre 200 beni e attività britanniche acquisite da agenzie governative aziende e investitori cinesi e di Hong Kong per un valore di oltre 135 miliardi di sterline l'elenco aggiornato pubblicato oggi indica in 45 miliardi di sterline il patrimonio britannico detenuto dallo Stato cinese e in 152 miliardi di sterline il totale detenuto dagli investitori cinesi e di Hong Kong Rishi Sunak al vertice del G20 ha definito la Cina la più grande minaccia statale alla sicurezza economica della Gran Bretagna e praticamente l'articolo ci dà anche notizia di questa legge cioè il National Security and Investment Act una legge in vigore dallo scorso gennaio che è stata utilizzata per impedire proprio che aziende britanniche concludano accordi con società cinesi e di Hong Kong proprio per motivi di sicurezza interna del Regno Unito insomma questa è la politica della Cina è chiaramente quella di inserirsi nelle società inglesi acquisire sempre di più asset economici di stati esteri in modo tale da penetrare nella loro economia finendola quindi per controllarla e in qualche modo collegato a questo articolo è un altro, in fondo diciamo un articolo in prima pagina proprio sul New York Times di oggi che ci dà la notizia che gli Stati Uniti investono ingenti quantità di denaro nei microchip ma questo aumento di spesa potrebbe non essere sufficiente nel bel mezzo di una guerra fredda tecnologica con la Cina le compagnie, le società statunitensi hanno promesso quasi 200 miliardi di dollari per progetti di produzione di microchip dall'inizio del 2020 ma gli investimenti non sono una pallottola d'argento non sono una pallottola d'argento significa un'espressione idiomatica inglese cioè significa che potrebbero non essere sufficienti potrebbero non bastare leggiamo l'attacco e l'articolo in cui abbiamo notizia di diverse società dei microchip che stanno investendo tantissimo negli Stati Uniti d'America per incrementare la loro produzione a settembre il gigante dei chip Intel ha riunito i funzionari in un terreno vicino Columbus in Ohio dove ha promesso di investire almeno 20 miliardi di dollari in due nuove fabbriche per la produzione di semiconduttori un mese dopo la Micron Technology ha inaugurato un nuovo sito produttivo vicino a Syracuse, New York dove l'azienda di Chip prevede di spendere 20 miliardi di dollari entro la fine del decennio e forse 5 volte tanto a dicembre la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha inaugurato un nuovo centro di produzione a Phoenix dove prevede di triplicare gli investimenti a 40 miliardi di dollari e di costruire un nuovo secondo stabilimento per la creazione di chip avanzati questi impegni fanno parte di un enorme sforzo di aumento dei piani di produzione di microchip negli Stati Uniti negli ultimi 18 mesi la cui portata è stata paragonata agli investimenti dell'epoca della guerra fredda nella corsa allo spazio questo boom ha chiaramente collegato al predominio per la leadership tecnologica e globale e geopolitica gli Stati Uniti mirano infatti a impedire alla Cina di diventare una potenza avanzata nel settore dei microchip oggi dice l'articolo che chiaramente i microchip sono una parte essenziale della vita moderna al di là di ciò che riguarda l'industria tecnologica perché hanno un ruolo fondamentale anche per l'industria militare secondo l'associazione dell'industria dei semiconduttori più di 35 aziende si sono impegnate a stanziare quasi 200 miliardi di dollari per progetti di produzione legati a microchip a partire dalla primavera del 2020 il denaro sarà speso in 16 stati tra cui il Texas, l'Arizona e New York per 23 nuove fabbriche di microchip l'amministrazione Biden ha in serbo almeno 76 miliardi di dollari in sovvenzione, crediti d'imposta e altri sussidi per incoraggiare la produzione nazionale di microchip questi sforzi costituiscono il più grande investimento degli Stati Uniti d'America nel settore manufatturiero dai tempi della seconda guerra mondiale quando il governo federale diede il via alla spesa per costruire nuove navi oleodotti e fabbriche per la produzione di alluminio e gomma il punto fondamentale poi è qui perché il principale produttore mondiale di microchip è come sappiamo ormai Taiwan e Taiwan è un'isola su cui la Cina ha rivendicato i propri diritti territoriali e quindi c'è questa preoccupazione che Taiwan possa, con cui gli Stati Uniti d'America hanno rapporti commerciali stretti c'è però la preoccupazione che la Cina possa riottenere il controllo militare anche su questa isola questo metterebbe a grave rischio la produzione di microchip e quindi il fabbisogno di microchip degli Stati Uniti d'America e del mondo occidentale per questo motivo gli Stati Uniti d'America stanno investendo tanto proprio nella produzione interna dei microchip l'articolo poi dà menzione del fatto che questo sforzo potrebbe nonostante ingente potrebbe non essere sufficiente proprio perché in realtà a Taiwan sono esperti nella produzione di microchip di ben 2 nanometri mentre invece anche la Taiwan una società taiwanese che sta aprendo uno stabilimento a Phoenix non ha ben chiarito quale sarà la dimensione dei chip che andrà a produrre in questo stabilimento statunitense si parla inizialmente di 5 nanometri poi di 4 ora di 3 però ormai i microchip più all'avanguardia sono di 2 nanometri e sono in particolar modo questi microchip quelli necessari per l'equipaggiamento militare di più alta tecnologia e maggiormente avanzato che è proprio poi su quello su cui si gioca la leadership mondiale tra Cina e Stati Uniti proprio su questo punto vi leggo giusto qualche passaggio proprio per maggiore chiarezza ci dice appunto l'articolo che a un certo punto alla fine del 2023 le fabbriche di TSMC c'è la Taiwan Semiconductor Company a Taiwan hanno iniziato a produrre tecnologia a 3 nanometri ma entro il 2025 le fabbriche di Taiwan inizieranno probabilmente a fornire ad Apple chip a 2 nanometri però non è ancora chiaro quali sarà la dimensione dei chip che invece questa azienda produrrà negli Stati Uniti la preoccupazione chiaramente degli Stati Uniti come ho detto è che Taiwan finisca sotto il controllo della Cina che ha annunciato di voler riprendere nel giro di anni il controllo militare su questa isola che chiaramente su cui rivendica diritti territoriali è importantissimo perché Taiwan oggi rappresenta il 22% della produzione totale di microchip e oltre il 90% dei chip più avanzati al mondo sono prodotti proprio a Taiwan questo è uno degli aspetti su cui si giocherà sicuramente la battaglia la guerra fredda tecnologica come ormai viene definita anche dai quotidiani internazionali tra Cina e Stati Uniti noi seguiremo attentamente gli sviluppi di questa vicenda con questa notizia si conclude la nostra rassegna stampa internazionale di Mosaico che torna come sempre domani alle ore 15 vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a restare con l'informazione di Visione TV grazie a tutti Grazie a tutti.